Unità 2. Test di ripasso. Esercizio 5, pagina 34. Allora, per me invece lasagna alla bolognese è come secondo un piatto di formaggi misti. Da bere? Prendete vino rosso o bianco? Cosa preferisci Giulia? Io bevo volentieri dell'acqua naturale. Allora una bottiglia di acqua naturale e per me un bicchiere di vino rosso. Bene, prendete anche il contorno? No, per me basta così. Sì, per me un po' di insalata. Ma sì, anch'io prendo un'insalata. Basta così? Non prendete il dolce? No, grazie. No, è salato solo dietro.